De Caro ci ha preso gusto, a un anno dal suo mandato il sindaco ha tracciato il bilancio del suo lavoro scoprendosi adatto al ruolo di primo cittadino. Mi ricandiderò al secondo mandato, ha detto De Caro che ha promesso che il 2016 sarà l'anno del trasporto pubblico. Baresi, datici una mano, l'appello dai nostri studi del capo della squadra mobile Luigi Rinella che invita i cittadini ad una maggiore collaborazione nella lotta alla criminalità. Regolamento a colpi d'ascia, Santerramo, Lalite e Percani che abbaiavano troppo rischia di finire in tragedia il bilancio di un arresto e di un ferito. Bari più forte con Sansone, finalmente la fumata bianca per l'attaccante, atteso il ritiro ed intanto nella prima amichevole 20 gol contro il Cascia, il nostro live in diretta da Rocca Porena. Tetris, ci sono dei mattoncini da posizionare ma bisogna trovare già lo spazio al mattoncino che sta per arrivare, se no si perde al gioco e questa città non ha nessuna intenzione di perdere. Mi sono entusiasmato, ho capito che per costruire il futuro di una città ci vogliono più anni, come è successo ai miei predecessori, come è successo a Michele Migliano, come è successo a Simone Di Cania Brescia. Ho deciso di ricandidarmi e di rifare il sindaco di questa città tra quattro anni sia ovviamente i cittadini baresi, lo vorranno e saranno contenti di quello che riuscirò a fare nei prossimi anni. Lei fino ad ora ha sempre detto che il fatto di non ricandidarsi l'avrebbe portato a fare anche scelte impopolari, cambierà qualcosa adesso nel piano di governo? Se serve continuerò a fare scelte impopolari perché mi è già successo da assessore al traffico, ho fatto delle scelte che sembravano al primo momento impopolari, la realizzazione delle piste ciclabili, la pedonalizzazione di alcune strade, sono diventato sindaco, quindi anche le scelte impopolari se le condividi con i cittadini danno dei risultati. E torniamo sul caso di tubercolosi all'ospedale di Venere. Al momento precisa il direttore generale dell'ASBari, Vito Montanaro, è opportuno parlare di caso sospetto. La persona interessata ha presentato i primi sintomi per i quali si è deciso il ricovero ed è stata sottoposta agli esami dell'espettorato, indiretti risultati negativi. Il quadro clinico e quello radiologico sono fortemente compatibili con la tubercolosi, ma per confermare il tutto è necessario attendere l'esito di ulteriori indagini. Per ora il caso rimane assolutamente sospetto e comunque sotto stretta osservazione. Il Dipartimento di Prevenzione prosegue Montanaro, avviato nell'ambito della tutela dei lavoratori, dei delegati e della sanità pubblica le inchieste epidemiologiche previste dai protocolli. Ancora un arresto ai danni di uno degli affiliati al clan Striciuglio. L'operazione della squadra mobile di Bari, iniziata ieri mattina, che ha portato all'arresto di quattro individui, ha avuto un seguito. Nel pomeriggio, dopo una serie di perquisizioni, il dirigente Luigi Rinella è intervenuto questa mattina in Vendgang fotografando una realtà poco collaborativa tra forze dell'ordine e società civile. Ce ne parla Barbara Cirillo. Dopo i quattro arresti di ieri mattina da parte degli uomini della squadra mobile di Bari, un nuovo arresto nel pomeriggio. Con l'accusa di detenzione ai fini della commercializzazione di sostanze stupefacenti, è stato arrestato il 37enne Luca Terrone, anche lui un soggetto probabilmente vicino al clan Striciuglio. Ieri mattina, infatti, all'arresto di Livio Genchi erano seguite le perquisizioni all'interno della sua abitazione e della sua macchina, in cui sono stati ritrovati droga e armi. In particolare, nell'auto è stato ritrovato anche un mazzo di chiavi e un documento riconducibile all'arrestato. Un sospetto confermato durante la perquisizione nell'appartamento, aperto proprio con una delle chiavi. La scusa di Terrone è stata quella di aver lasciato il tutto nella macchina che Genchi gli avrebbe prestato, una tesi che ovviamente non ha retto. 32 involucri di cocaina, a 7 di eroine, circa 38 grammi di eroina liquida, sono stati ritrovati in un altro locale del condominio ad esclusivo utilizzo di Luca Terrone, aperto con un'altra chiave del mazzo. Ulteriori perquisizioni nella palazzina al quartiere Libertà, effettuate anche con l'utilizzo di unità cinofile, hanno potuto portare a ritrovamento e al sequestro di una pistola semiautomatica, priva di matricola, completa di caricatore contenente 5 cartucce e circa 2 kg di hashish. Un ennesimo colpo portato a casa ai danni di una delle organizzazioni criminali più forti di Bari, una città che purtroppo non brilla per spirito di collaborazione, come ha dichiarato il dirigente della squadra mobile, il dottor Luigi Rinella. Questa città, mi spiace dirlo, non brilla per spirito di collaborazione con la forza dell'ordine. Se ci fosse da parte dei cittadini, al di là del discorso molto più ampio che non si può fare in questo contesto, se si avesse la mentalità di riferire alle forze di polizia quello che si vede, noi abbiamo mille occhi in giro, anzi centinaia di migliaia di occhi in giro, se ognuno raccontasse ai numeri 112-113 quello che vede, quello che sa, quello che percepisce, sarebbe un'onda di informazioni continua che invece non c'è. La cronaca stavano litigando a causa dei loro cani che abbagliavano troppo, poi uno dei due è rientrato in casa, ha preso un'ascia e ha colpito il suo vicino di casa al volto e al torace ferendolo gravemente. È stato poi arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali gravi. È accaduto l'altra sera a Santeramo in Colle dove i carabinieri sono intervenuti dopo che i vicini di casa avevano chiamato il 118 per una violenta lite in corso. I militari hanno soccorso il ferito, un uomo di 41 anni, anche lui incensurato, e arrestato poco dopo l'aggressore, un uomo di 58 anni, messo ai domiciliari. La vittima, soccorsa da personale sanitario del 118, era ricoverata nell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove i sanitari hanno riscontrato lesioni al padiglione auricolare guaribili in una quarantina di giorni. L'arma recuperata è stata posta sotto sequestro. Ancora cronaca, cecato dalla gelosia, ha tentato di strangolare la compagna utilizzando una cintura di pantaloni. È accaduto l'altra sera a Gravina in Puglia dove i carabinieri hanno arrestato un quarantenne ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali. Una telefonata giunta sul numero di emergenza 112 ha fatto intervenire una pattuglia dell'arma sul luogo indicato dove i militari hanno sorpreso il quarantenne mentre malmenava la propria compagna nonostante il loro arrivo. L'uomo è stato quindi bloccato e arrestato. La vittima, una donna 36enne estremata dalle percosse, ha raccontato ai carabinieri che da alcuni mesi era costretta a subire simili aggressioni e che per paura di ritorsione aveva preferito non presentare denuncia. La vittima condotta in ospedale è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni per le lesioni riportate in varie parti del corpo. Siamo alla pagina politica, sarà Mario Luizzo, ex Assessore dei Trasporti, il Presidente dell'Assemblea regionale e intanto il PD cerca la quadra su altri ruoli. La Vicepresidenza dell'Assemblea regionale all'ex Assessore Mario Luizzo pare abbia per ora sedato gli animi all'interno del PD. Le fibrillazioni dei giorni scorsi sembrano acqua passata, salvo superare l'appuntamento previsto per il prossimo venerdì in cui la direzione del Partito Democratico affronterà insieme al Presidente Emiliano la scottante questione Assessori. Quelle tre poltrone non ancora assegnate fanno storcere il naso e la posizione dei dem è chiara, vanno riempiti al più presso. Intanto anche la quadra sugli altri ruoli sembra sia stata trovata. Per la Presidenza delle Commissioni Capigruppo corsia preferenziale per le zone geograficamente non rappresentate nell'esecutivo. E domani incontro a Roma tra Emiliano e parlamentari pugliesi. La distanza tra il gladiatore e il Premier Renzi su tanti, forse troppi argomenti, sarà certamente oggetto di discussione. E continua il pressing dei pentastellati per avere ruoli di garanzia all'interno del Consiglio regionale. Anche in Puglia il Movimento 5 Stelle, così come in tutte le regioni d'Italia, continua a dare la sua disponibilità per i ruoli di Presidenza, Vicepresidenza e altri ruoli nell'Ufficio di Presidenza, che saranno votati in Consiglio regionale mercoledì 22 luglio, facendosi portavoce dei 310 mila pugliesi che lo hanno scelto come prima forza di opposizione. Il Movimento 5 Stelle è la seconda forza politica del Paese e da maggior ragione in Puglia, dichiarano i consiglieri, in quanto principale forza di opposizione il Movimento 5 Stelle si aspetta che vengano assegnati ruoli di garanzia di controllo all'interno dei consigli regionali. Infine assicurano che se eletto come Presidente e Vicepresidente del Consiglio regionale o qualsiasi altruolo all'interno dell'Ufficio di Presidenza, il portavoce Movimento 5 Stelle si impegna a rifiutare qualsiasi retribuzione aggiuntiva e privilegi come le auto blu. Ammontano a 43 milioni di euro le risorse relative all'anno 2015 stanziate dal Governo per gli ammortizzatori sociali in deroga della Regione Puglia. Nella giornata di ieri il Ministero competente ci ha comunicato l'assegnazione della cifra di 43,4 milioni di euro utili a finanziare i trattamenti di cassa integrazione in deroga dei pugliesi, sottolinea in una nota Sebastiano Leone, assessore al lavoro della Regione Puglia. È una cifra importante che ci permetterà di dare risposte alle istanze finora pervenute. Resta il rammarico per la decisione del Governo di ridurre, proprio a partire dal 2015, da 11 a 5 le mensalità previste per i lavoratori di cassa integrazione. Si tratta di fatti di una scelta che rischia di ripercuotesi sul sistema delle imprese pugliesi esclusa degli ammortizzatori ordinarie e di produrre nuovi licenziamenti con crudeleo, in realtà produttive, che avrebbero la possibilità di affrontare e superare la crisi. Prosegue la raccolta firme per bloccare la pedonalizzazione in fase sperimentale su via Martiri d'Otranto al quartiere Libertà. I promotori consiglieri di Nuova Centrodestra e Partito Democratico si aggiunge il Movimento 5 Stelle. Sentiamo. Continua la raccolta firme per bloccare la pedonalizzazione in fase sperimentale sul tratto di via Martiri d'Otranto a Libertà davanti alla Chiesa Redentore. Quasi 600 i nomi raccolti, ma presto, spiega Michele Sciacovelli, consigliere del primo municipio di Nuova Centrodestra e promotore della petizione, scenderemo in piazza con un banchetto per allargare la schiera dei no. A surriscaldare gli animi la congestione del traffico causata pare dalla recente chiusura, ma anche e soprattutto la presa di posizione, dicono, del primo cittadino che senza chiedere alcun parere al municipio ha dato seguito al progetto. E Francesco Parisi, consigliere a Municipale PD, rincara la dose parlando anche di sicurezza. I ragazzi si riversano nelle strade di notte. Una sperimentazione fatta di luglio e agosto, me lo lasci dire, fa ridere i polli. Siccome lui ritengo che sia presuntuoso da non tornare indietro, andiamo avanti, ci misureremo. E siccome Don Francesco ci ha tenuto a specificare, senza smentita da parte sua, che a lui va bene solo quel piccolo pezzo che stanno sperimentando, e l'obiettivo dell'amministrazione è ampliare ancora la piazza, chiudendola ancora di più, c'è qualcosa che non torna. Una violazione del regolamento sul decentramento amministrativo che riserve ai municipi la competenza in materia di viabilità. Non siamo contro le pedonalizzazioni, aggiunge Italo Carrelli, consigliere del Movimento 5 Stelle, ma vogliamo che tutto sia fatto secondo le regole. Venendo meno, come dicevo prima, a questa volontà espressa nell'ambito del regolamento sul decentramento, agendo diciamo in prima persona, quantomeno ci mette il dubbio che questa cosa possa nascondere dietro delle dinamiche. Dinamiche che al momento sono solo supposizioni, ci spiegano poi come la costruzione a pochi passi su via Martiri d'Otranto di un autosilo. Bene, ci fermiamo. Pausa pubblicitaria, ma ne state con noi perché dopo torneremo con altre notizie. A tra poco. Rieccoci ancora in diretta e allora ripartiamo subito dal bilancio dei primi 365 giorni di governo tracciato dal sindaco Antonio De Caro nella conferenza cittadina di oggi pomeriggio. Il sindaco ha allencato le cose fatte, i progetti ancora da realizzare. Ha annunciato che il 2016 sarà l'anno del trasporto pubblico. Sentiamo. Qual è il risultato di cui va più fiero in questo primo anno di mandato e la sconfitta che brucia di più? Sicuramente costruire giorno per giorno un pezzo di futuro, avere una visione, tenere i piedi per terra e la testa tra le nure, risolvere le piccole cose, guardare però lontano, non distogliere lo sguardo dal futuro della città. Piccole cose, stiamo costruendo le case popolari, abbiamo attivato i cantieri di cittadinanza, le case dell'acqua, gli over 65 che possano salire gratuitamente sugli autobus però ci sono delle cose che potevamo fare meglio. Il trasporto pubblico per esempio è ancora inefficace e inefficiente. Abbiamo comprato 14 autobus usati, ne arrivano 12 nuovi, non basta, ce ne vorranno 50 in più e la regione non so se avrà i fondi da mettere a disposizione, mi inventerò qualcosa, venderò qualcosa, andrò al governo, andrò all'Unione Europea, dobbiamo cambiare il trasporto pubblico. Dicono che sono quello che ha ammazzato il traffico nel centro cittadino, cercherò di essere ricordato per aver dato nuova vita al trasporto pubblico nel 2016. La città che guarda al mare non la vedremo durante i suoi mandati probabilmente, ma che cosa resterà di lei per riferimento al mare? Il mio programma dice che Bari è una città protesa verso il mare, voglio lasciare delle cose, la riqualificazione del muro di Sant'Antonio, del muro di San Nicola, iniziamo i lavori tra qualche giorno per la riqualificazione del waterfront a San Gironamo, sono 1,8 km di costa riqualificata, voglio già nel mio primo mandato collegare Torre Quetta a Pane e Pomodoro e prolungare Torre Quetta per avere un'unica spiaggia a sud lunga 3,5 km. E continua a far discutere la privatizzazione della Fiera del Levante dopo lo che è arrivato ieri dal Consiglio Generale dell'ente fieristico, oggi il Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Dirella con una nota inirizzata al Sindaco Antonio De Caro ha chiesto di valutare l'opportunità di fornire al Consiglio Comunale eventualmente durante una seduta monotematica i dati specifici dell'operazione di privatizzazione della Fiera del Levante al fine di chiarirne l'utilità e la convenienza soprattutto per la comunità barese è fortemente legata per storia e tradizione ad uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città. Intanto in Commissione Trasparenza questa mattina ci si interrogava su un'eventuale incompatibilità tra il ruolo di Presidente della Commissione Cultura e di Consigliere di Amministrazione della Fiera di Giussi Cascella. Come può, si è chiesto Samino Mangano, Consigliere del Movimento 5 Stelle, convocare in Commissione il Presidente della Fiera del Levante? E' ufficiale la notizia del finanziamento di 5 milioni di euro destinati al secondo lotto dei lavori di ristrutturazione del Teatro Piccini nell'ambito della misura regionale Rete dei Teatri Antichi. Terminati i lavori del primo lotto che hanno riguardato il consolidamento statico della struttura, la realizzazione dei principali impianti tecnologici, la demolizione e ricostruzione di parti murarie e l'adeguamento o prevenzione incendi nonché la posa di nuovi pavimenti e intonaci, adesso gli uffici tecnici comunali sono impegnati nella predisposizione degli atti di gara per il secondo stralcio dei lavori che prevede tutti gli allestimenti della platea unitamente ai tre palchi del primo ordine destinati ai cittadini con disabilità. L'installazione di un ascensore parte del restauro di beni mobili e di arredi del teatro, la scenotecnica, il restauro di alcune superfici decorate ed ulteriori impianti tecnologici per un importo appunto di 5 milioni di euro. Entro la fine dell'anno contiamo di aver indetto la procedura di gara e di conoscere l'aggiudicatario provvisorio dei lavori in modo da poterli avviare concretamente nel 2016. Questo è l'annuncio dell'assessore lavori pubblici del comune di Bari, Giuseppe Galasso. Giovani e anziani, una risorsa comune. Questo è il tema dell'assemblea programmatica dalla FNP CIS pensionati Bari che si è tenuta questa mattina a una riforma del sistema pensionistico e il futuro dei giovani, le emergenze a cui le istituzioni, secondo il sindacato, dovrebbero trovare un'immediata soluzione. Sentiamo. Pensioni e pensionati, il mezzogiorno e i suoi problemi, nonché il futuro dei sindacati, sono alcuni dei punti discussi questa mattina in occasione dell'assemblea programmatica organizzativa della FNP CIS pensionati, un momento di verifica dell'attività sindacale a due anni dal congresso nazionale. Un'occasione inoltre per ribadire la collaborazione con la CIS, gli enti, le associazioni, il patronato e l'anteas. Ma quando si parla di pensioni non si parla solo di anziani, ma soprattutto del futuro dei giovani lavoratori di oggi che potrebbero diventare i poveri di domani. E questo è il problema più importante da affrontare insieme alle istituzioni, secondo il segretario generale FNP Bari, Domenico Leantonio. Le pensioni non riguardano i pensionati attuali, ma riguardano soprattutto le generazioni future. Io credo che questo sia un problema drammatico per il nostro paese, del quale bisogna prendere coscienza. Sono soprattutto i lavoratori attivi che possono essere addirittura i poveri di domani. Questa è la prospettiva reale, se non si perviene ad una riforma vera delle pensioni. Perché fino ad oggi ogni ministro, ogni governo ha fatto una riforma personale, non una riforma vera. Quindi cosa chiedete al governo? Chiediamo al governo di aprire un tavolo vero con chi rappresenta poi sostanzialmente il monto del lavoro e il monto dei pensionati, che sono le organizzazioni sindacali, ma anche le organizzazioni dei dettori di lavoro, e di definire bene qual è il percorso di uscita. Perché pensare a delle famiglie che non hanno né più lavoro, né più salario, e non hanno pensioni, e devono sopravvivere per anni in attesa di una pensione addirittura da fame, questo è un dramma vero che bisogna affrontare. Si chiama Arfeo Futuro ed è una rete di quattro festival che proporrà un parterro di oltre 700 artisti di calibro internazionale, protagonisti di 52 concerti di musica antica e contemporanea, 8 alle città coinvolte, Bari, Monopoli, Mola, Acquaviva delle Fonti, Molfetta, Palo del Colle, Martina Franca e Albero Bello. Ritratti si terrà dal 17 luglio al 7 ottobre, Agimus Festival invece dal 22 luglio al 21 novembre, dal 18 agosto al 10 ottobre avrà luogo Oriente Occidente, e infine dal 1 settembre al 14 ottobre Anima Mea. Due momenti saranno dedicati al centenario del genocidio armeno e all'11 settembre, tra gli ospiti d'eccezione Uri Kane e Antonella Ruggero. Il pugile parese Francesco Lezzi è pronto a tornare sul ring. Questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città, l'assessore dello sport Pietro Petruzzelli e il presidente del CONI Elio Sannicandro interverranno alla presentazione del match valido per il campionato del Mediterraneo IBF, categoria Super Welter, nel corso del quale Francesco Lezzi sfiderà il boxer tunisino. L'incontro si terrà il prossimo 31 luglio nel Palamartino. Bene, siamo al calcio perché è arrivata finalmente la fumata bianca per Gianluca Sansone, e l'attaccante atteso in ritiro ha intanto oggi nella prima amichevole 20 gol contro il Cascia. Non so se siamo pronti per collegarci in diretta da Roccaporena, dove ci sono per noi Cristian Siciliani e Salvatore Guastella. Cristian, non so se riesci a sentirmi, buonasera. È terminata davvero da pochi minuti. Bari 20, Cascia 0, primo gol stagionale di Marino De Fenti, mattatore di giornata, caputo con cinque reti. Salvatore, a te le prime sensazioni di questo nuovo Bari di Davide Nicola? Ovviamente è un primo test assolutamente insignificante da un punto di vista di giudizi su singoli o altre cose, però è molto significativo sull'applicazione di tutti i ragazzi della squadra. Ho visto anche un mister abbastanza soddisfatto perché oggi hanno lavorato a lungo nella mattinata e credo che i ragazzi hanno dato e hanno fornito utili indicazioni che la strada è quella giusta. Detto ciò, ovviamente 20 gol rispetto a un avversario che era assolutamente insignificante da un punto di vista della forza e della consistenza, però i movimenti e l'applicazione sono stati più che indicativi che i ragazzi sono attenti e sono rispondenti alle stimolazioni del mister. A momenti arriverà in ritiro Gianluca Sansone, colpo di mercato del Bari, però Salvatore domani potrebbe esserci anche un altro arrivo. Non solo, domani, comunque domani sì, c'è Sapunaro che probabilmente in giornata si sbloccherà la sua situazione, De Luca è atteso quanto prima, quindi si sta delineando un Bari di tutto rispetto. Dottore, possiamo dare l'appuntamento con il ritiro bianco-rosso? Sì, lo dobbiamo dare, dobbiamo chiedere un po' di pazienza, se non un po' di scusi agli amici che stanno aspettando il ritiro bianco-rosso. Abbiamo fatto l'impossibile, la puntata sta viaggiando, abbiamo, come si dice, nelle stazioni oppure nei tabelloni degli aeroporti, viaggiamo in ritardo, quindi abbiamo un po' di pazienza, però abbiamo accumulato questo ritardo per farvi vedere i primi del Bari, quindi vogliate scusarsi, però ne valsa la pena. Grazie Salvatore Guastella, Alessandra Telalini. E allora ringraziamo chi si è siciliano di Salvatore Guastella, noi siamo in chiusura, quindi non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Il meteo è offerto da Civetteria Atelier e a Bari in Ghiadante 14. Previsioni per domani. Al mattino, al nord, schiarite prevalenti, seppur alternate a nubi sparse. Al centro, bel tempo, con cieli sereni. Al sud, bel tempo, cieli sereni. Nel pomeriggio, al nord, bel tempo, con cieli sereni. Al centro, bel tempo, con cieli sereni. Al sud, bel tempo, con cieli sereni. Al pross, bel tempo, con cieli sereni. Al pross, bel tempo.